Nei primi anni del XXI secolo la prima squadra maschile del gruppo polisportivo Vallo era arrivata a raggiungere e disputare il camionato di Serie C. Erano presenti inoltre formazioni giovanili, dall'Under-18 alle varie categorie inferiori. Il movimento è andato poi scemando, neanche tanto piano, e nel 2018 a Vallo non esisteva più neanche una sola squadra di pallavolo formata da uomini. Il volley era diventato uno sport che attirava e appassionava solo le donne. E per quattro anni ci sono state solo formazioni femminili. Fino all'anno scorso, quando si è riusciti a formare di nuovo una squadra maschile, l'Under-13. In questa stagione le squadre sono diventate due. All'Under-13 si è aggiunta l'Under-15. E' ancora presto per dire che i giovani ragazzi di Vallo della Lucana e dei Paesi di Mitro fissiano tornando ad appassionarsi a questa disciplina. Quello che è sicuro è che la dirigenza sta facendo il massimo per rilanciare la pallavolo tra gli uomini. Andando nei particolari delle due squadre in questione, l'Under-15 ha terminato il proprio campionato poco più di un mese fa. I risultati non sono stati granché, ma parliamo di ragazzi alle prime armi. Quindi nulla di particolarmente avvilente. Siamo nella normalità. Per quanto riguarda l'Under-13, invece, la stagione è cominciata domenica scorsa, con il primo dei tre triangolari, il cosiddetto 3x3, nel quale i giovanissimi vallesi hanno sconvitto sia i coetanei della Free Fox di Sala Consilina, 15-6, 15-1 e 15-11, che quelli della MC Luna di Camerota, 15-11, 15-11 e 15-5. Un risultato forse sorprendente, considerato anche che nelle due sfide non è stato perso neanche un set e che fa ben sperare per il futuro. La squadra, infatti, oltre a disputare gli altri due triangolari in questione, comincerà lunedì prossimo un minicampionato. Si tratta di un girone a 5 con partite di sola andata. I piccoli vallesi giocheranno in casa contro la Xenia Scafate e la Volla di Monte Corvino Rovella e in trasferta contro la Mailbox di Cava dei Tirreni e la Pallavolo Battipaglia. La rosa dei giovanissimi pallavolisti, allenati da Lello La Gloria, è formata da Antonio Rizzo, Agnero Laurito, Samuele Sposito, Francesco Merola, Alessandro Ruggero, Toribbio Tomeo, Gabriele Romanelli, Andrea Ricciardi, Andrea Rizzo, Giacomo Di Santi e Giovanni Sansone.